Ben tornati telespettatori a Mangiare Informati, il redazionale di nutrizione e dietologia a cura della dottoressa Limonta, la vostra dietologa. Oggi parliamo di menopausa, quindi un argomento caro a tutte le nostre telespettatrici. La menopausa è un momento fisiologico della donna, che avviene intorno ai 50 anni, dove si assiste ad una serie di cambiamenti ormonali che portano alla scomparsa del flusso mestruale. È un periodo caratterizzato da diversi effetti collaterali, tra cui mal di testa, insonnia, disturbi di rumore, palpitazione, agitazione, ma anche vampate di calore e sudorazione abbondante. Dal punto di vista strettamente dietologico si assiste a un cambiamento del metabolismo basale. Cosa significa? Una donna in menopausa brucia meno calorie rispetto ad una donna in età fertile. Questo fa sì che se non si interviene con una corretta alimentazione, nel primo anno di menopausa si assista ad un aumento del peso di circa 6-7 kg. Altro importante aspetto che avviene a livello metabolico è proprio il cambio della forma del corpo della donna. Anche le donne più magre assistono in menopausa ad un aumento del girovita, per aumento di quel grasso che si chiama viscerale, che è un grasso, ahimè, brutto dal punto di vista estetico, ma anche molto dannoso per la salute, perché è correlato col rischio cardiovascolare e con lo sviluppo di ipertensione e diabete. Assistiamo anche, dal punto di vista dietologico, a un vero e proprio cambio dei gusti. Anche le donne che non erano golose, che non lo sono mai state nella propria vita, si ritrovano ad apprezzare i dolci, il cioccolato, le torte, le caramelle. Questo, abbinato ad un metabolismo più basso, fa sì che inevitabilmente si aumenta di peso. Quindi molte donne cosa fanno con l'inizio della menopausa? Iniziano delle diete, ma attenzione alle diete fai da te. Infatti in questo periodo molto delicato della vita di una donna è pericoloso improvvisarsi dietologi e fare una dieta fai da te, perché questa potrebbe risultare sbilanciata e potrebbe avere dei gravi ripercursioni sulla vostra salute. Pensiamo infatti all'importanza del calcio. Durante la menopausa aumenta il rischio di osteopenia e osteoporosi. Le ossa diventano più fragili, più soggette alle fratture, anche spontanee. In questo periodo è bene apportare nella propria dieta circa 1,2-1,5 grammi di calcio al giorno. Delle volte delle diete squilibrate non riescono a raggiungere questo bisogno e la paziente va incontro presto a osteoporosi. Quindi ricordate, il calcio è importantissimo. E dove è contenuto il calcio? Sicuramente nel latte e in tutti i suoi derivati, quindi lo yogurt e tutti i formaggi. Attenzione però ai formaggi, perché sono sì ricchi in calcio, ma anche molto calorici. Quindi se abbiamo deciso di perdere anche qualche chilo, introduciamoli due volte alla settimana come secondo piatto. Il formaggio infatti non è un'aggiunta o un fine cena, ma è un vero e proprio secondo piatto, sia dal punto di vista calorico che dal punto di vista proteico. Esiste inoltre un'ottima strategia per acquisire calcio con la dieta a zero calorie. E il calcio è infatti contenuto in alcune acque. Esistono in commercio delle acque minerali che contengono una buona quantità di calcio. Quindi assumendo un litro e mezzo, due litri di queste acque al giorno, riusciamo già a coprire metà del nostro fabbisogno. Una cosa importantissima sarà la colazione, dove il latte non dovrà mancare. Ovvio, prenderò un latte intero se non sono a dieta, se invece voglio perdere qualche chilo posso optare per le versioni parzialmente scremate o addirittura scremate. Vi ricordo che il contenuto di calcio nel latte non varia. Quello che varia dal latte parzialmente scremato, quello intero e quello scremato, è soltanto la quantità dei grassi. Altro alimento fondamentale nella dieta della donna in menopausa sono la frutta e la verdura, perché contengono i famosi antiossidanti che ci proteggono dalle malattie e ci proteggono dall'invecchiamento. In ultimo vi voglio ricordare un alimento che non è molto diffuso nella nostra alimentazione qua in provincia di Lecco è la soia. La soia è importantissima per le donne in menopausa perché contiene delle sostanze che sono dei fitoestrogeni, sono degli estrogeni vegetali, quindi possono alleviare i sintomi, gli effetti collaterali della menopausa. Quindi impariamo a bere ogni tanto del latte di soia, piuttosto che utilizzare la soia come secondo piatto vegetariano o anche i germogli di soia per arricchire le nostre insalate. Per ultimo finiamo con ricordare che una donna in menopausa deve sì stare attenta alla propria alimentazione ma deve soprattutto muoversi. L'importanza dell'attività sportiva è fondamentale, quindi una donna in menopausa dovrebbe essere educata a alimentarsi in maniera migliore e a muoversi di più. Vi saluto telespettatori e vi ricordo buona dieta a tutti, ci vediamo settimana prossima dove parliamo ancora di fame nervosa. Grazie. Grazie.